Cosa si aspetta? Che risultati vi aspettate? Innanzitutto nessuno di noi si aspettava un risultato così immediato da parte delle istituzioni e questo è un segno molto importante perché questo significa che quando i progetti di tipo culturale o anche di tipo solidaristico come questo partono, hanno una risposta più veloce e più efficiente del passato da parte del pubblico. La prima cosa che ci ha ispirato questo progetto è stato il senso nuovo che dovessero avere i carnevali nella nostra provincia, soprattutto quelli prolungati in periodo di quaresima che potevano creare qualche dubbio, qualche disagio. Anche questa è una cosa importante, quando si lanciano dei progetti, il nostro dovere di ideatori, ideatori di creatori di comunicazione, deve essere anche quello di ripensarli in progress, in corsa e farli diventare anche qualche cosa di nuovo, cogliendo le occasioni, stando sulla notizia, stando su quella che è l'attualità. Il carnevale che appunto normalmente è un'occasione di svago, inteso questa volta come un'occasione di solidarietà è un'iniziativa nuova, innovativa, non si era mai vista? No, non si era mai vista e la provincia di Pavia deve anche proporsi a livello nazionale come fucina di idee nuove, diciamo come palestra anche per l'applicazione di nuove tecniche, di marketing emozionale, di comunicazione, che la nostra università ha una leadership molto importante sulla comunicazione, è la terza università italiana in questo senso e quindi noi abbiamo anche il dovere di dimostrare quali sono le tantissime nuove idee che vengono dalla nostra università e di trasformarle in atti concreti, di non lasciarle semplicemente dentro le tesi.